bene ragazzi in questo video un nuovo quiz con le figurine della moto gp nick vi spiegherà tutto ciao ragazzi come gli altri quiz avrete a disposizione 15 secondi per rispondere nei commenti se volete dopo questi 15 secondi noi vi mostreremo la risposta corretta ora vi lascio il quiz e buona fortuna a tutti grazie 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 a tutti